Sono Marinella Damo e sono dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Piazza Armerina. Sono qui per aderire al nome della mia istituzione, alla vostra iniziativa, io sono contro. Noi siamo contro, siamo contro la violenza, siamo contro la violenza perpetrata ai danni delle donne. Siamo contro chi si occupa di loro in maniera impropria, dicendo di amarle ma alzando le mani. Questo non è amore, questo è abuso. Voglio che le mie alunne in particolare siano consapevoli della loro forza, abbiano un'alta autostima, si difendano, perché soltanto affermandoci nella società da un punto di vista civile che noi avremo rispetto nell'intimità delle nostre case. Noi siamo qui per costruire una società più equa, per difendere i diritti delle donne, perché purtroppo ancora oggi è necessario ribadire il nostro diritto di cittadinanza. Allora io sono contro.